Allora, è il momento di ascoltare insieme il mash-up o remix o bootleg. Questa settimana abbiamo scelto un bootleg di un nostro amico che si chiama Paolo Pellegrino, che salutiamo. Lui, i suoi tatuaggi, le sue collane. Questa canzone è molto popolare in Italia in questo momento, è interpretata da Lisa Hanningham. Sicuramente la conoscerete nella sua versione pop, forse però non vi aspettavate che qualcuno potesse anche metterci le mani e renderla ballabile. In questa versione è What I Will Do, bootleg. Sentite un po'. Iscriviti al nostro canale Grazie a tutti. 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 Quindi la versione di questa canzone di Lisa Hannigan, di Paolo Pellegrino e questo è il bootleg che abbiamo scelto questa settimana. Se voi volete mandarci i vostri rework o i vostri mashup potete scriverci a djtime.it e allegare il vostro lavoro se ci piacerà. Lo sentirete poi all'interno del DJ Time la prossima settimana o in futuro. Andiamo avanti con l'ultimo disco a chiudere questa prima ora Wolfgang Gardner con Redline.